E' sicuramente un cerignola più ambizioso di quanto non ci si aspettasse inizialmente, specialmente dopo il K.O. con il Monterosi alla prima giornata. Gli uomini di pazienza sono la scheggia impazzita di questo girone C e la grande prestazione contro il Catanzaro lo ha dimostrato. La corazzata calabrese ha infatti sfiorato la prima sconfitta stagionale proprio in terra pugliese, salvandosi soltanto in pieno recupero su una palla inattiva, questione sul quale gli ofantini dovranno ancora migliorare. L'entusiasmo della piazza è crescente, nonostante l'ultima sconfitta a Monopoli, la città rincorreva da anni questo obiettivo che adesso è diventato realtà. Una media di 3.000 spettatori in casa e di circa 400 quando si va in trasferta non può che esserne la dimostrazione. L'audace adesso non dovrà abbassare la guardia, l'imperativo è continuare a far punti per mettersi alle spalle la zona rossa della classifica, disputando così un campionato senza troppi patemi, il primo tra i professionisti dopo 85 anni. Grazie. Grazie.